Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi è la festa della Madonna del Rosario. Questa festa ci ricorda il giorno in cui i cristiani riportarono la vittoria contro i turchi a Lepanto nel 1571. Il Papa San Pio V istituì questa festa sotto il titolo di Santa Maria della Vittoria e due anni dopo il Papa Gregorio XIII la confermava mutandone il nome in quello di festa del Santo Rosario. A ragione questa vittoria venne attribuita alla Santissima Vergine poiché, mentre a Lepanto si combatteva, in tutta la cristianità si recitava il Rosario. Erano milioni di fedeli con a capo il Papa che pregavano affinché la fede in Europa fosse preservata da ogni pericolo. Il Senato della Repubblica di Venezia, la quale tanto aveva fatto per questa vittoria, fece scrivere sul quadro commemorativo di questo avvenimento, collocato nella sala delle sue adunanze, la famosa epigrafe. Non virtus, non arma, non duces, sed Maria Rosari victores nos fecit, che significa non il coraggio, non le armi, non i capi, ma la Madonna del Rosario ci ha fatto vincere. La vittoria fu un intervento della Madonna, infatti le forze cristiane erano minori rispetto a quelle turche. Grazie alla Madonna e al suo Rosario l'Europa fu salva e sarà sempre per la preghiera del Santo Rosario che sarà preservata ad ogni pericolo. E così e anche per la nostra vita spirituale abbiamo molti nemici dell'anima nostra, nemici di gran lunga più forti di noi. I nemici dell'anima nostra sono il demonio, il mondo e soprattutto il nostro Io con tutti i suoi vizi e le sue cattive inclinazioni. In questa lotta contro i nostri nemici dobbiamo difenderci e l'arma sempre vittoriosa, l'arma che c'è stata donata dalla sempre vittoriosa, ovvero dalla Vergine Maria, è il Santo Rosario. Diciamo pure che anche noi abbiamo una battaglia di Lepanto dentro di noi, umanamente parlando la situazione disperata, ma grazie a Maria abbiamo l'arma che ci consentirà certamente di vincere. Con il Rosario è come se noi ripetessimo alla Madonna le parole del Salmo 141, salvami dai miei persecutori perché sono di me più forti. Sono certamente più forti di noi, ma con il Rosario riporteremo certamente vittoria. Riusciti in questa impresa, allora potremo adoperarci anche per la battaglia, per la lotta contro il potere delle tenebre che si svolge attorno a noi e nel mondo intero, ma la prima battaglia che non finisce mai è quella che dobbiamo combattere dentro di noi. San Massimiliano Maria Colbe insegnava che prima di tutto dobbiamo conquistare noi stessi. E ora, cari fratelli e sorelle, concludiamo con una preghiera alla Madonna del Santo Rosario. O Santa ed Immacolata Vergine, Madre del mio Dio, Regina di Luce, potentissima e piena di carità, che siedi incoronata su di un trono di gloria, tu sei l'aurora precorritrice del sole divino nella buia notte del male che ci avvolge. Tu sei la stella mattutina, bella, risplendente, la celebre stella di Giacobbe, il cui fulgore, diffondendosi sulla terra, rischiara l'universo, riscalda i cuori più gelidi e i morti nel peccato risuscita alla grazia. Tu sei la stella del mare, lascia che io ti invochi con questo titolo a te sì caro di Regina del Rosario. O Santa Signora, speranza dei padri antichi, gloria dei profeti, luce degli apostoli, onore dei martiri, corona delle vergini, gioia dei santi, accoglimi sotto le ali della tua carità e sotto l'ombra della tua protezione. Abbi pietà di me che ho peccato, o Vergine piena di grazia, salvami, salvami, illumina il mio intelletto, ispirami pensieri affinché io canti le tue lodi e ti saluti per tutto questo mese al tuo rosario consacrato, come l'angelo Gabriele, quando ti disse, rallegrati, o piena di grazia, il Signore con te, e dica con lo stesso spirito e con la stessa tenerezza di Elisabetta, tu sei benedetta fra tutte le donne. O madre e regina, impetrami da Dio le grazie che tanto desidero per me e per tutti i miei cari, se esse sono di gloria tua e di salvezza alle anime nostre. Formuliamo la nostra intenzione e concludiamo recitando con amore una salve regina. Salve regina, madre di misericordia, vita dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo noi esoli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsu dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo quest'esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine Maria. E per intercessione della Beata Vergine Maria e di San Giuseppe vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Giuseppe e Maria. Grazie a tutti. Grazie a tutti.